Non tutto in una notte è un evento che accompagnerà il fine serata contribuendo a rendere i rientri a casa più sicuri, ma non solo. Tutto ciò è una grande ricerca sul campo, con questionari e raccolta dati, ed un modo per far parlare il territorio e gli adulti su questi temi. Ciò grazie all'azione dei media e ad una serie di incontri pubblici sul territorio. Inoltre, su richiesta, può esserci una presenza in altri luoghi e territori, come scuole, piazze, feste o concerti. Non tutto in una notte è un grande chill out itinerante, animato e riscaldato, presente nei luoghi del divertimento più frequentati dai giovani del territorio. Uno spazio accogliente e rilassante in cui fermarsi per un po', fare due chiacchiere con gli operatori, bevendo caffè, acqua o succo di frutta, tutto gratis, prima di rimettersi in auto. La possibilità di partecipare ad un format televisivo, registrato durante le notti e mandato in onda dalle emittenti locali partner. Un sito www.nontuttoinunanotte.it, dove rivedere immagini e clip e una presenza sui principali social network.